mmm sta allora mettiamoci comodi un attimo no mettiamoci comodi cosa c'è di meglio che guardare la juve a casa tua con uno juventino in casa quando la juve sta facendo una grandissima prova perché fate cagare diciamo la verità fatica non so la partita come finirà perché siamo sull'uno a zero ma ho deciso di anticipare il video per dirvi che fate cagare qua c'è uno juventino che fino a un minuto fa era disperato perché eravamo zero a zero no adesso ha segnato la juve però il mio parere rimane che fate sempre cagare mi raccomando facciamo cagare l'ha messo pure lui in settimana mi raccomando in champions league occhio perché uscite dalla cia occhio perché uscite da ah no ma siete già usciti siete già usciti in cia occhio perché siete c'è usciti dai lo so io adesso ha segnato la juve ma tu questa juve come la vedi fate cagare di verità dai con lecce stavate subendo lecce facciamo cagare adesso gli do da mangiare adesso gli do da mangiare due vongoline così così lo mettiamo un po ciao 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 ciao